Il pennello da barba, insieme al sapone e dal rasoio, probabilmente è l'elemento più iconico della rasatura tradizionale. Fedele compagno del rito dell'insaponatura del viso, è l'accessorio che prima di tutti dà il via all'atto della rasatura. Ma cosa sappiamo oggi di questo secolare elemento della rasatura? Quando è nato il pennello da barba? Chi ha inventato il pennello da barba? Come si è evoluto fino ai giorni nostri? Cerchiamo di scoprirlo insieme in questo video. Ora, direi di cominciare con una domanda piuttosto lecita, e cioè, come ci si insaponava il viso prima dell'utilizzo del pennello? Beh, risposta assai semplice, con le mani. E pare anche che fosse molto piacevole, vista la scritta che compare sotto a questo disegno dell'epoca, e di cui vi evidenzio la simpatica traduzione. Tuttavia, di una cosa possiamo essere certi, e cioè che a un certo punto della storia il pennello da barba entrò a far parte del corredo maschile per la rasatura. nostro malgrado, però, non esistono notizie circa il suo o i suoi inventori, ed anche fornire una datazione certa riguardo la sua comparsa sul mercato è cosa assai difficile. All'interno del Museo delle Arti Decorative di Berlino, si può ammirare, però, uno strano mobile chiamato il Gabinetto d'Arte della Pomerania, il cui contenuto potrebbe fornirci una data approssimativa alla quale abbinare il primo pennello da barba della storia. Si tratta di un mobile storico di lusso che il mercante d'arte di Augusta, Philippe Einhofer, aveva costruito per il duca di Pomerania, Filippo II, all'inizio del XVII secolo. Si presenta come una lussuosa scrivania, minuziosamente lavorata, arredata come un gabinetto miniaturizzato e caratterizzato dall'essere dotato di tantissimi scomparti contenenti innumerevoli curiosità. Ecco che qui possiamo notare, all'interno di uno degli innumerevoli scomparti, la presenza di attrezzature inerenti alla cura dei capelli e la rasatura, fra cui due rasoi e un paio di pennelli da barba, presumibilmente datati fra il 1610 e il 1615, ma si tratta di attrezzature strettamente personali ed uniche nel loro genere. Tuttavia, è credenza comune che il pennello da barba sia stato inventato in Francia nel 1748, malgrado un articolo pubblicato più tardi, vale a dire nel 1830, menzionasse il fatto che fino al 1756 l'azione dello schiumare fosse affidata alle mani dei barbieri e che verso quel periodo venne introdotto l'uso del pennello. Nel dipinto di Per Hillestrom, datato verso la fine del 1700, in cui era figurato un barbiere svedese, si nota chiaramente sul tavolo un pennello, una ciotola con sapone e una specie di coramella per affilare. Nel 1770 Jean-Jacques Perret scrisse e divulgò un'opera, la Pogonotomie, ovvero l'arte di radersi da sé. Fu così che da allora, quasi sicuramente, il pennello da barba entrò a far parte della vita di tutti i giorni delle persone, dalle più abbienti fino alle più povere. È per questo motivo che le tipologie di pennelli, giunte fino ai giorni nostri e provenienti da quei tempi antichi, spaziano da modelli estremamente ricercati, con manici in argento, oppure in osso, finemente lavorati, fino ad arrivare a pennelli, per così dire più umili, dotati di semplici manici in legno. Certo è che una caratteristica accomuna nel tempo tutti i pennelli, ovvero quella di avere setole lunghe e strette, con nodi di piccolo diametro, solitamente non oltre i 20 mm. L'uso del tasso diventa la norma all'inizio del XIX secolo. Plisson, fornitore ufficiale dell'imperatore Napoleone I, è il più antico produttore di pennelli da barba al mondo. Infatti nasce a Parigi nel 1808. Per molto tempo, grazie alle sue proprietà e in particolare alla sua capacità di trattenere l'acqua, il pelo di tasso è stato il ciuffo favorito nella progettazione dei pennelli da barba. Tuttavia, a causa del costo e della scarsità del pelo di tasso, ma anche per ragioni etiche, per realizzare pennelli da barba sono stati utilizzati nel corso degli anni diversi tipi di fibre. Setole di maiale e cinghiale in primis, crine e coda di cavallo e negli ultimi anni fibre sintetiche come il nylon. Pare che alcuni produttori abbiano persino provato materiali più originali come pelo d'orso, pelo di capra, pelo di procione e addirittura, pare, capelli umani. Ed eccoci finalmente qui alle considerazioni finali dopo questo volo storico, questo video impegnativo. È bello impegnativo fare un video del genere, però dà soddisfazione. C'è più lavoro per quanto riguarda la rasatura in sé. La rasatura è cosa semplice. Qui c'è una ricerca, credo, spero, faccia piacere a voi, ma soprattutto è di un arricchimento personale perché ovviamente bisogna fare delle ricerche e via dicendo. Quindi arriviamo ai giorni strettamente attinenti alla nostra realtà. Pennelli, pennelli in circolazione, cosa abbiamo? Ma io direi un irrinunciabile. Pennello in setola di maiale, il 48. Anche nel caso in cui non doveste utilizzare questo genere di pennello, un 48 non può mancare. Ce l'hanno i barbieri, è un pennello che qualcuno definisce professionale e a parer mio ci deve essere all'interno dell'armadietto di un tonsore che si rispetti. Mi piace tantissimo, forse molto più equilibrato, il modello Omega Pro Raso. Quindi è un ciuffo più piccolino. Sono cose che sappiamo tutti, ma magari c'è qualcuno che è la prima volta che guarda questo genere di video. A mio modesto parere la cosa più azzeccata sono i ciuffi dal dimensionamento ridotto. Qui abbiamo un Semog Soc, a parer mio uno dei migliori maiali attualmente in circolazione. Cosa dire sul maiale? Beh, lo sappiamo tutti, ho fatto tanti video, va rodato, ha bisogno di un avvio particolare, non evitare di rovinare il pennello. Si ottiene il massimo da questa tipologia di pennello dopo diversi utilizzi, ma a mio modesto parere quando il pennello è ben rodato e ben inumidito regala una sensazione sul viso che è favolosa. Non mi ha mai convinto più di tanto il tasso. Probabilmente i tassi che ho io, pochissimi, due, hanno un ciuffo troppo lungo e diventa decisamente floppy, diventa uno straccetto in più. Si mangia veramente un sacco di sapone, un sacco di acqua e per renderlo, per far ritornare il prodotto in viso, devo premere, agire troppo sul ciuffo. Pennello molto morbido, non ha bisogno di grosse attivazioni, il tasso non fa le doppie punte, non ha bisogno di immersioni particolari perché è un pelo idrorepellente, quindi non assorbe acqua, malgrado qualche anno fa qualcuno mi disse, no, non assorbe acqua, tant'è che se lo sbatti due volte ritorna asciutto. Ecco, morbido, pungente nel caso in cui non si dovesse trattare di un silver quindi di un tasso particolarmente ricercato, trovo molto buono l'equilibrio che si ottiene andando a mischiare le setole di maiale con le setole del tasso. Non ho mai nascosto anche nei miei video che questo Mistura di Casa Semog è un pennello veramente equilibrato che consiglio veramente con tutto il cuore. Dà la resistenza del maiale, la morbidezza del tasso, è il pennello probabilmente per eccellenza, a meno che come nel mio caso non adoriate il pennello in setro di maiale. Arriviamo al sintetico, i sintetici a oggi siamo nel 2023, sono i pennelli di ultima generazione. Hanno avuto anche loro un'evoluzione, siamo passati dagli S brush che sembrano più che altro pennelli, non dico da parete, però che imitano molto la setola del maiale. Sinceramente mi piace, un maiale da pronti via, ho poco tempo, devo mettere il pennellino a mollo e non ce la faccio. Ecco, un pennello di questo genere, nel caso in cui adoriate la setola di maiale, si avvicina tantissimo a livello sensoriale al pennellozzo del porco. La maggior parte dei sintetici però tendono a raggiungere le caratteristiche del tasso. Buoni, ottimi pennelli sicuramente, qui ho uno dei miei preferiti, un sintetico di casa Simpson, un Simpson T2. Ottima resa, tutto ciò che entra qui dentro viene poi restituito sul viso e a livello di sapone e a livello di acqua, però si sente che è sintetico, si sente, è questo che mi frena nel dire che siano i pennelli perfetti. Sì, tantissime caratteristiche ottime, cioè non hanno bisogno di rodaggio, è subito pronto, si pulisce bene, si asciuga subito, bla bla bla, ma si sente in ultima analisi che è plastica. Ultimo pennello che vi propongo, questo sintetico, imita il cavallo, è un cavallo sintetico. Io l'ho provato, come fa a imitare il cavallo? Come fa questo a imitare il tasso? Ma secondo me si va a lavorare sulla lunghezza del ciuffo, quindi il cavallo essendo più morbido, gli si vanno a mettere delle setole più lunghe magari con una densità minore e quindi si arriva a raggiungere la sensazione della coda o del crine di cavallo. Non mi ricordo sinceramente se l'ho già provato, forse sì, forse una volta, lo andremo a provare prossimamente in rasatura. Per concludere, allora per concludere io ci metto di mio, ci metto il mio zampino. Spesso a coloro i quali iniziano vengono consigliati i pennelli sintetici per non star lì a tribolare con eventuali rodaggi, ammolli e via dicendo. Sì, oddio, tutto si può fare. Io personalmente, dato che parliamo di rasatura tradizionale, consiglio il maiale. Ti perdi un po' di tempo col rodaggio, ti perdi qualche sbarbata per attivare bene il pennello, non vedo cosa ci sia di male, dove stia tutta questa fretta per arrivare. È come se io volessi acquistare una macchina d'epoca ma la voglio col motore e iniezione perché col carburatore, sai, ogni tanto si ingolfa, devi tirare l'aria. Per chi non sapesse cosa sia l'aria, cioè l'arricchitore di miscela, fatevelo spiegare dal vostro papà o dal vostro nonno, insomma rendeva la vita un po' difficile, soprattutto negli avviamenti a freddo. Oggi si vive in un mondo bellissimo, giri la chiave e la macchina parte, una volta non era proprio così come una volta, non era proprio così rapido l'utilizzo del pennello in setola di maiale. Ma se il nostro obiettivo è quello di riportare la rasatura a ciò che era un tempo, secondo me qui andiamo a centrare in pieno l'obiettivo. Ad ogni modo scegliete quello che vi pare, fate in modo che ovviamente la rasatura sia di vostro gradimento, quindi carissimi io vi saluto, spero che il video sia stato di vostro gradimento, un abbraccione a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao da Andrea dal canale di Pogonotomania e come sempre fate i bravi. Ciao ciao!